il marchiciano alle prese con l'affaro in bol parla inglese questa visita ma si yes i faretti vanno tutti rivisti che c'è il faretto dici no il resto non si vede se noi facciamo questi colori se c'è qualche micro difetto sul soffitto non è che succede se va, se riguarda, se li vede però cominciamo a fare i colori io vedo solo i faretti che sono da pulire questa è una sfidatura, la spugnetta viene bene se fate bene, fate una spugnetta allora, su bagno e per bagno, finiti poi li metti a svedrà scattavedrà, come si dice in giro l'antibagno, lo sgrappuzzino e quel disimpegno allora, lo metto della vino mano finisci questi due ok e poi devi finisci le carteggiate che se finisci le carteggiate si può portar via domani le porti via la cosa allora Grazie a tutti.